Ciao, oggi vi parlo da qua fuori dal balcone perché oggi stiamo entrando nella primavera ed è una giornata bellissima con tanto sole e mi piace da morire e appunto oggi, siccome stiamo entrando nella primavera, vi volevo parlare delle stagioni dell'anno in portoghese. In portoghese stagioni dell'anno si dice estazioni do anno, quattro estazioni, estazioni do anno, una estazione, quattro estazioni. E cominciamo dalla primavera. Primavera rimane uguale in portoghese, primavera, però il nostro è più aperto, quindi non è primavera, è primavera, primavera, poi estate è verano, verano, assim come sta scritto qui, verano. Dopo abbiamo outono, outono e dopo inverno, inverno rimane uguale. Questo è tutto, vi volevo ricordare, io sono una traduttrice e vi volevo chiedere che se avete bisogno di traduzione oppure conoscete qualcuno che ne ha bisogno, scrivetemi, questo è il mio contatto, questo è il mio sito. Ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti.